Ciao a tutti e a tutti! Prima che mi dimentichi devo salutare un'amichetta di mia figlia, Emily, che mi ha detto a scuola se la salutavo in un video, quindi ciao Emily! Guarda che sono una persona come le altre e non è che sono una VIP perché faccio un video su YouTube, figurati! Scusate questa piccola parentesi. Oggi vi volevo parlare un po' dei miei prodotti styling, non proprio i miei prodotti styling preferiti, però in generale quelli che ho utilizzato. E' un po' una review generale sui prodotti styling che ho utilizzato negli ultimi anni perché nonostante ne abbia parlato qua e lei nei video, non ho fatto mai un video specifico. I messaggi continuate a chiedermene, ho provato questo, ho provato quello, ho pensato di fare un video in cui ne parlo un pochettino in generale di tutti quanti. Mi risparmio un po' dei risposte che continuano ad aumentare tantissimo. In questo video vi parlerò dei prodotti styling bio ovviamente, quindi naturali. Quelli che non sono bio ve lo dico, però comunque tranquilli che sono tutti i prodotti naturali, quindi se siete interessate continuate a guardare il video. Togliamoci subito la marca Fito, vi parlo prima di tutto di questa marca così almeno andiamo a marca un pochettino più chiaro. La Fito 9 e la Fito 7, di queste ne ho già parlato in tanti video, come proteggere i capelli in estate, consigli per capelli crespi, questo vi metto il link sia sotto il video che qua intorno perché tanto c'è sempre la tizia di turno che mi chiede ma un prodotto per capelli crespi, cioè io penso che almeno una volta al giorno, almeno un messaggio o due al giorno è proprio su questo argomento. Capelli crespi, fortuna che ho fatto il video qualche mese fa e quindi vi metto il link di quello in cui parlo sia di prodotti che nomino e anche di prodotti che qua non ci sono, proprio consigli in generale per i capelli crespi. Quindi se avete i capelli crespi prima guardate quel video così sapete tanto tutto quello che io vi consiglio. Fito 7 e Fito 9, non ce li ho qui perché non li compro da un bel pezzo. Comunque io ho provato la Fito 7 due miliardi di anni fa, quando era proprio all'inizio, quando ancora si conosceva poco. È una cremina vegetale che ha appunto un po' di olietti all'interno e serve per mantenere i capelli idratati. È proprio un prodotto styling da utilizzare sui capelli umidi e volendo anche sui capelli asciutti. Stessa cosa la Fito 9. La Fito 9 rispetto alla Fito 7 è un pochettino più corposa. La Fito 7 è un po' più liquida, la Fito 9 è un pochetto più densa e è più idratante. Io la Fito 7 l'ho provata quando avevo i capelli ultra scalati, mi ero indirizzata sulla Fito 7 perché sapevo che era più leggera. Dopo quel taglio, quello di cui ho parlato nel video, parliamo di tagli e anche nel video tag My Hair Story, è stato il taglio più brutto che ho mai avuto in tutta la vita perché era ultra scalato, cioè un stile Lorella Cuccarini degli anni 80. Questi capelli qua sopra erano proprio tipo corti così e i capelli qua sotto erano due peli, anche arrivavano fino qua, ma erano proprio due peli. Dovevo stare sempre sempre a rifare la piega, continuamente la piastra, era un disastro e ero ossessionata dall'idea di idratarli perché volevo mantenerli sani il più possibile. Ma dico come faccio a mantenerli sani se nessuna piega mi regge neanche mezza giornata? Non stavano in piega, non solo il phon non bastava, era proprio un casino. Vabbè, quindi ho preso la Fito 7 perché erano tutti ultra scalati, avevo pochi capelli lunghi e non potevo appesantirli. Ci sono trovata bene e la consiglio per chi ha capelli appunto veramente tanto sottili. Io ce li ho sottili, però quando sono così più pieni comprerei la Fito 9, non la Fito 7. La Fito 7 è proprio per chi ha veramente capelli molto sottili, non li vuole appesantire neanche lontanamente, è molto molto leggera. La Fito 9 appunto è un pochettino più corposa, stessa funzione, ma un po' più idratante, ma a me non la mai appesantito. Cioè una volta che mi sono ritrovata con i capelli un po' più pieni, mi raccomando non utilizzatela mai sempre, sempre. Non dovete proprio utilizzarla costantemente ad ogni lavaggio, ogni tanto non la mettete perché tutti i prodotti styling che contengono degli oli all'interno non bisogna mai esagerare troppo, rischi che ti vadano a seccare i capelli invece che a idratarli. Proprio anche con gli impacchi con oli, bisogna fare così, non bisogna mai eccedere, farli tutti i lavaggi, ogni 10 giorni, 15 giorni. Questa qui la utilizzate magari un lavaggio sì, un lavaggio no, oppure la utilizzate sempre e poi una volta ogni 3-4 lavaggi non la utilizzate. Così siete a posto e non vedete nessun effetto collaterale, ma solo effetti positivi. La Fito Keratin, questa qui, questa costa un po' di più rispetto alle altre, ha ingredienti buoni come le altre, forse anche migliori perché ha anche la keratina. L'unica cosa brutta, l'avevo già messa in un video del Lucio Feige una vita fa, è che non fa niente, cioè secondo me è proprio acqua fresca e moltissime di voi me l'hanno confermato. C'è chi si è trovata bene, ma la maggior parte mi hanno detto che pure loro non senti differenza, cioè perché stavo utilizzata sui capelli umidi, non sento proprio nessuna differenza, la metti, non la metti uguale, non ammorbidisce, non idrata, non fa niente. Quindi io ve la sconsiglio per questo, però magari vi ci trovate bene, è brutto che costicchia, quindi se uno non è sicuro che sia un prodotto buono, non è che ci arriva a spendere tutti questi soldi. E l'ultimo della Fito, quindi non mi chiedete opinione su altri prodotti della Fito perché io non li ho usati. Cercate magari opinioni su Sai Cosa di Spalmi, sul forum di Lola, ci sono tantissimi blog ormai che fanno review, quindi magari scrivete il nome del prodotto Fito, seguito da Inci, opinioni, quello che è, e trovate sto mondo e quell'altro. Recensisco quello che ho utilizzato, so magari sì questo, so che non è buono, però non mi ricordo tutti, non sono un'enciclopedia. Fito de Frisane, di questa ne parlo anche nel video sui capelli grespi, ne ho messa su un video delle scoperte, ne ho parlato tantissime volte. È un gel che si utilizza sui capelli bagnati, quindi non è un gel styling da utilizzare sui capelli asciutti per modellarli, no, è semplicemente un anticrespo in gel da mettere sui capelli umidi, che si può mettere benissimo anche vicino alla radice perché appunto essendo un gel molto leggero non vado a pesantirli per niente. Io è l'unica confezione che ho comprato, non ne ho prese altre perché ho altri prodotti buoni che fanno d'anticrespo. L'ho finita solo perché è veramente tanto che ce l'ho, perché in teoria questi durano sei mesi, io ce l'avrò da due anni e in più mi si è anche aperta, cioè mi si è proprio rotta la confezione, quindi entra dall'aria, il prodotto è giallino, dopo questo video la butto infatti. È molto buono, mi piace moltissimo, proprio per quelle che hanno problemi di crespo vicino alla radice e quassù, in genere che hai capelli grespi ha proprio questo problema, quasi tutte le persone a cui l'ho consigliata mi hanno detto che ci si sono trovate bene, poi c'è sempre la minoranza che dice non vedo differenza, però è soggettivo, purtroppo quello bisogna provare e vedere. Un'altra marca di cui volevo parlare, ve l'avevo già anticipato nel video scorso per esempio in review, in cui ho provato un campioncino di uno shampoo di questa marca, è questa qui, la Eco Cosmetics. Allora, io cercavo una lacca con buoni ingredienti, una bella fissante, insomma forte. Mi piaceva provare quella della farfalla, a parte il nome, avete capito che mi piacciono le farfalle? Il packaging dispira un sacco e poi in generale so che sono prodotti buoni e molto delicati, il brutto è che la lacca è molto leggera, da come leggevo lì, tutte dicevano la lacca, non appiccica per niente, sembra quasi di non averla, allora che la usiamo a fare di preciso? Non so voi, ma io la lacca, facendo questo lavoro, la lacca serve per fissare, fissare proprio in maniera strong, altrimenti metti una cera, metti una cremina, metti un gel leggero, ci sono lacche più forti e meno forti, ma quelle che sembra che non le hai, che te le metti a fare? Io non ho mai spignattato una lacca, ce l'ho lì la ricetta, quella di Carlita, lo so, me l'avete consigliata in tanti, io me l'ho già scritta da tanto tempo, ma non l'ho mai fatta, per semplice fatto che è a base di acqua, e a base di acqua che ti fissa, cioè le lacche devono essere a base di alcol, perché tu la metti sui capelli asciutti e deve evaporare, se addirittura ti va quella a bagnare i capelli, rischi che ti si increspano, cioè non va bene, la lacca deve essere proprio quel prodotto strong che tu vai a mettere e ti fissa, proprio ci aumentifica tra un po' i capelli, e a me serviva per le spose, quindi non è che posso prendere una lacca così, io in realtà utilizzavo anche quella lavera, che mi piaceva da pazzi, perché è ultra strong, è veramente una lacca potentissima, ma siccome a me ripiace, va fuori produzione, tanto lo sapete che qualsiasi cosa che utilizzo va fuori produzione, non l'ho più trovata, ero andata su Ecco Verde apposta per prenderla, perché non la trovavo a Naturasì, mi sono messa alla ricerca e ho trovato questa Deleco Cosmetics, che aveva opinioni proprio ottime, dicevano che fissa bene, non secca troppo, ma fissa veramente bene, provata, sperimentata sulle acconciature in generale, anche sulle spose, su mia nonna capelli a nuvoletta, su di me, con i capelli mossi, con la piastra o quello che è, e a me piace tantissimo, è veramente una lacca che fissa bene, ovviamente contiene alcol, quindi non va utilizzata sempre sempre, perché rischiamo di seccare i capelli, però non è una cosa eccessiva, te li va a indurire proprio tanto tanto, te li indurisce il giusto, non puoi mettere la lacca e passare le mani tra i capelli e sentirli morbidi come la seda, se no non metti la lacca, se vuoi questo effetto. L'unica pecca è che quando la spruzzi ti senti che ti pizzica il naso, cioè una cosa, non è un odore, è proprio forse l'alcol che fa questo effetto, sempre per lo stesso motivo, mia nonna che ha gli occhi molto sensibili, ha avuto problemi agli occhi, ogni volta che l'ho utilizzata ha avuto un arrossamento degli occhi, le pizzicavano, le davano tanto fastidio, oltretutto una volta di questa avevamo proprio un pranzo insieme con dei parenti, quindi mi è dispiaciuto tantissimo che Purina è stata con gli occhi così tutto il giorno, non so se anche a voi è capitato, ditemi voi se l'avete provata come vi ci siete trovate, se avete questo problema agli occhi non la prendete, io ho problemi di allergie e tutto, però più che farmi fare uno starnuto perché appunto ho il naso un po' sfigatello, non mi succede niente, se mi succedesse così o a nonna non la userei mai più, in generale mi è piaciuta molto, su tutte le persone che l'ho utilizzata non ci sono stati questi problemi, quindi per me è promossa. E la stessa linea, questa qui è la schiuma per capelli, questa anche l'ho utilizzata in diverse maniere, su di me per farli con il diffusore, sempre su di me per poi fonarli, quindi asciugarli lisci, magari con le punte mosse, con tante altre persone per fare tipo come mia nonna la piega o in generale per farli lisci un po' gonfietti, perché la schiuma utilizzata per poi andare a fonare i capelli, proprio spazzola e fon, ti aiuta a dare un po' di corpo ai capelli, cioè è come se dessi più volume, però non svolazzano, quindi tipo per una cerimonia, per queste cose qui è perfetta. Mi è piaciuta moltissimo, aiuta davvero a dare volume, non secca eccessivamente i capelli, anche perché l'alcol, che in genere nelle schiume c'è sempre, non è all'inizio del linci, come la lacca ad esempio, sta più o meno alla metà, quindi è un pochettina di meno. Questa davvero mi è piaciuta moltissimo, ho provato su tante persone, mi è sempre piaciuta molto, quindi per fare i capelli mossi al naturale con il diffusore, l'ho utilizzata sia su di me che su altri, mi è sempre piaciuta moltissimo. Certo non bisogna utilizzare sempre sempre la schiuma, secondo me, perché poi alla lunga va a seccare, perché tanto anche di alcol ce n'è di meno, verrà sempre che ce n'è, quindi come la lacca non bisogna mai abusarla. Ce n'è ovviamente molto meno rispetto a quelle che trovate al supermercato. Io so che anche la schiuma della Lavera è buona, ma io non l'ho mai provata, dovrebbe essere anche più forte di questa. Quella della Sante che ho, perché mi è stata regalata poco da Mila, la ragazza con cui ho fatto delle collaborazioni con il suo negozio, Miss Bio, che sta a Porto Sante il video. Se siete di queste parti, stiamo per organizzare un altro incontro, in cui io metterò proprio le mani in testa ai vostri capelli. Quindi se siete interessate, mettete mi piace alla sua pagina Facebook, perché poi creerà l'evento, eccetera. Vi metto sotto il link della sua pagina Facebook. È una ragazza carinissima. Mi ha regalato quella schiuma, quindi la devo utilizzare per vedere un attimo com'è. Io utilizzo le cose molte volte, questa ce l'ho da tipo aprile, marzo-aprile. Quindi io prima di farvi una review, le strauso le cose, perché voglio farvela il più completa possibile. Quindi questa veramente è promossa, mi piace tantissimo. Guardo prodotti styling della Biofficina Toscana, crema definizione Ricci, Antigrespo. Non li ho provati, purtroppo io, ragazze costicchiano, quindi non li ho comprati, non me li hanno mandati, quindi non so proprio che cosa dirvi. So che molte si trovano bene, altre non si trovano bene, non lo so. Spignatti, se spignattate, che quindi se spignattate, ok, se lo spignattate, state comunque in ascolto, perché vi interesserà, ve lo assicuro. La cremina che è, diciamo, al posto della Fito 7 e Fito 9, fatta in casa, con la ricetta di Carlita Dolce, che non è la ricetta Fito 9 fatta in casa, che quella è pessima, ve l'avevo già detto in un video delle ciopeghe, non la fate per carità. È quella che adesso non mi ricordo lei come l'ha intitolata, dopo vi metto il nome. Ma lisciante, io la faccio al cocco, profumata al cocco, perché mi piace così, anche perché c'è l'olio di cocco dentro, che già profuma di suo. E adesso è finita, e qui mi è anche, si è cancellata anche un po' la scritta. Comunque, questa mi piace tantissimo, mi piace molto di più della Fito 9. Gratante, si può utilizzare sia sui capelli asciutti, che sui capelli bagnati, ma anche il giorno dopo sui capelli asciutti, se avete le punte un po' secchette, un po' di punte svolazzanti. L'ho utilizzata anche sulle clienti, dopo che fanno i capelli lisci, per dare proprio quell'effetto al posto delle goccine, di semi di lino, del parrucchiere, che sappiamo che di semi di lino lì c'è ben poco, sono tutti silicone, un effetto proprio ultramorbido. Sono delle persone che hanno bisogno di indurire un po' i capelli, per far tenere la piega, altre che invece hanno bisogno di ammorbidirli il più possibile, per fare appunto durare la piega. Questa cremina è perfetta per questo tipo di persone, poi in generale su di me mi piace tantissimo. È un ottimo anticrespo, ne parlo anche nel video consigli per capelli crespi. Metto soltanto un pochettino meno, rispetto alla ricetta di Carlita, di Guar, il resto però è tutto uguale. Ha sempre cose spignattate, il ormai famosissimo gel di semi di lino, ve ne ho parlato, ho straparlato, ho fatto il tutorial su come realizzarlo in casa. Vi metto qua il link. Ho realizzato anche lo stesso tutorial, in versione un pochettino diversa per pianeta donna, proprio da poco, quindi vi metto il link anche di quello sotto al video. Ho fatto vedere come utilizzarlo in tantissimi tutorial, come asciugare i capelli col diffusore, in cui utilizzo proprio solo questo. Quando faccio le pieghe mosse, che sia spazzola e fanno, che sia la piastra e il ferro in genere, utilizzo sempre questo per fissarli. È un ottimo prodotto styling, economico, anticrespo, per i capelli ricci, per i capellisci, è perfetto. Vi metto il link del video in cui ne parlo, in cui vi spiego bene tutto, perché non finiamo più di parlarne. Comunque questo è un must, una cosa che non deve mai mancare. Che questo qui, lo utilizzo su tanti clienti, come effetto appunto finish. Quando fai i capelli mossi con la piastra, con il ferro, dà quell'effetto morbido, ma allo stesso tempo fissante. Mantenere i capelli mossi un po' più a lungo, e insomma per me è perfetto, io lo adoro. Tra tutte le persone che l'ho consigliato, avrò sentito due o tre persone al massimo, che non ci si sono trovate bene. Una mi ha detto che li seccava, un'altra mi ha detto che purtroppo si asciugava, e non aveva più nessuna definizione. Però questo tutorial l'ho fatto una vita fa. Lo consiglio alle amiche, a tutti quanti, da una vita. Diciamo che sono un po' l'eccezione, quelle che non si sono trovate bene. Per il resto si trovano sempre tutte tutte bene, quindi io ve lo straconsiglio. Anche per i maschietti va bene, per fissare un po' l'effetto spettinato, non fa un effetto ultra bagnato, ma comunque fissa molto bene. L'ultimo spignatto di cui vi volevo parlare, e questo che insomma dovrebbe interessarvi, è il balsamo spray senza risciacquo. Ne ho già parlato in tantissimi video, sulle scoperte, video sui consigli per capelli grespi, uno dei prodotti top del 2014, ne parlo sempre. E sarebbe appunto questo qui, adesso qua non c'è l'etichetta, che non ho avuto tempo di metterlo. Balsamo quello che ha fatto Carlita Dolce, che non è del tutto ecco bio, perché c'è il centrimodium cloride, però il bello di questo è che non andiamo a metterlo nel lavandino, perché si spruzza sui capelli bagnati, li asciughiamo, quindi non è un prodotto a risciacquo, non va diciamo nello scarico, rimane qui, viene assorbito dai capelli, quindi non andiamo perlomeno ad inquinare niente. È ottimo, questo proprio non ne posso mai fare a meno. Spesso finisco questa, come adesso, ma questo proprio ogni volta che lo finisco, lo rifaccio, lo rifaccio, perché mi ci trovo benissimo. Potete o se spignattate farlo con la ricetta di Carlita, pure farlo voi con il balsamo, che è una cosa semplicissima, basta mischiare acqua distillata e balsamo, se avete qualche olio essenziale, come l'olio essenziale di limone, aiuta perché lucida moltissimo i capelli, se no lo utilizzate così. È un ottimo anticrespo, un ottimo idratante, perfetto sia perché ha i capelli sottili, perché non va ad appesantire per niente, io lo metto anche qua sopra, sia perché ha i capelli un po' più grossi in generale, proprio per ammorbidire, perché va sempre sempre bene. Vedo che è un prodotto che mi piace così tanto, ho realizzato anche per voi, ho queste due confezioncine, passiamo spray senza risciacquo, limone e monoi, io ci metto il limone appunto per lucidare più i capelli, e poi profumato al monoi, il profumo del monoi è troppo troppo buono. E quindi questi sono per voi, vi avevo detto che avrei fatto più regalini, però in realtà ne ho fatti troppo pochi, devo realizzarne ancora, non tutti nello stesso video, magari vi metto un po' di qua e un po' di là, intanto di questi ne ho fatti due. Sono spray, come vedete, non lo vado a spruzzare perché non va bene, insomma sta qui chiuso da quando l'ho fatto. Le vincitrici si ricordino di agitare prima dell'uso per mescolare bene, vado a spruzzare sui capelli, e avete i capelli morbidi, idratati e profumati. Per vincere questi prodotti, dovete lasciare un commento qui sotto, un commento soltanto, in cui scrivete quello che vi pare, non vi preoccupate, ci saranno due estrazioni, quindi due vincitrici, potete scrivere da quando il video sarà online, fino a giovedì 29 ottobre, alle 23 di sera. Alle 23 dovete comunque commentare, però non vincerete sicuramente, perché io mi salvo la pagina, e quelli saranno i commenti tra cui farò l'estrazione. Non dovete essere per forza iscritte al canale, però ovviamente dovete avere un nickname, qualcosa, per scrivere qua sotto. Non cercherò le vincitrici poi nei video prossimi, e comunque su Facebook, e su Instagram, quindi guardate un po' qua e là. Le vincitrici mi dovranno poi contattare privatamente, possibilmente su Facebook, se hanno Facebook. A moltissime di voi non riesco proprio a rispondere, non c'è proprio scritto rispondi sotto al vostro commento, quindi io non so come diamine fare a contattarvi, idem per i messaggi privati su YouTube, è sempre un casino, quindi se potete mi scrivete privatamente su Facebook. Spero davvero che vi piaccia, ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti e a tutti per l'iscrizione, un bacione, ciao! Ciao!